Si aggrava la situazione per i lavoratori di Safilo, per tutti ammortizzatori sociali nuovamente richiesti negli stabilimenti di Longarone e Santa Mere di Sala e per la logistica di Padova. L'azienda ha ormai oltre il 90% della propria produzione all'estero e non ritiene sufficienti i margini di utile visto il costo del lavoro producendo in Italia. Legittima la preoccupazione di lavoratori e sindacati. Noi stiamo lavorando proprio per evitare che lo stabilimento venga chiuso, però se consideriamo da quella parte lì un pezzo di fabbrica è stata già chiusa, è chiaro rispetto alla gestione degli esubili e rispetto alle incertezze che ci sono, ma rispetto anche al silenzio da parte di questa azienda, la preoccupazione c'è. Longarone ha già visto dimezzati i lavoratori, scesi da 900 a 490, per i rimasti una cassa integrazione. Con la perdita tra il 40 e il 50% della remunerazione e il contemporaneo aumento delle bollette, la situazione economica rischia di diventare drammatica. I lavoratori nel corso del 2022 hanno avuto una recortazione pesantissima del loro reddito a causa dell'inflazione e a causa dell'aumento dei costi energetici. Avevamo chiesto a questa azienda di dare un'integrazione alla cassa integrazione utilizzando anche uno strumento come quello dei buoni benzina o dei buoni spesa che avessero una legava fiscale favorevole. L'azienda non ha assolutamente provveduto a questo. Il prossimo 10 novembre le rappresentanze sindacali delle tre unità produttive Saffilo di Longarone, Santa Maria di Sala e Padova si riuniranno per studiare e decidere una strategia comune, anche se lo stabilimento montano è quello che oggi preoccupa maggiormente. Le preoccupazioni sono quelle di un futuro non tanto a breve ma nel medio e lungo periodo. Noi vogliamo capire dopo il 2023 cosa succederà a questo stabilimento.